Telemulise, azienda leader negli ascolti nella nostra regione, ha raggiunto i 20.000 iscritti sul canale YouTube, dove è possibile con un semplice clic e una ricerca rivedere ogni notizia filmato, trasmissione che copre un periodo di oltre 10 anni. Più di 15 milioni di visualizzazioni con picchi nell'ultimo periodo, 500.000 in un solo mese, numeri che continuano a crescere giorno dopo giorno, con l'obiettivo di raggiungere, grazie a contenuti sempre più attuali, tempestivi e vari, il numero maggiore di utenti. Accedere a Telemulise su YouTube è semplicissimo, basta solo cliccare su iscriviti e si ha a disposizione tutta l'offerta nel modo più immediato e facilmente fluibile. Ovunque, davvero in un attimo, è possibile ricevere Telemulise attraverso YouTube e le Smart TV andando sull'app di YouTube e scrivendo semplicemente Telemulise, facendo dunque la ricerca sull'applicazione si possono rivedere i filmati. Seguire pertanto Telemulise con YouTube è davvero semplice, venendo sempre più incontro con estrema immediatezza la platea di gente, ovunque che segue e cerca la nostra informazione e intrattenimento da PC, smartphone, tablet e anche in TV, in altissima definizione su un televisore smart comodamente sul divano di casa.